Dunque il protocollo Seveso non era stato aggiornato da 20 anni alla Meres di Piano Dardine. Per il momento è un fatto a sé stante rispetto all'incendio divampato nella notte del 19 ottobre scorso in uno dei cinque capannoni della storica azienda che nel nucleo industriale di Avellino produce e trasforma poliuretani espansi utilizzando sostanze chimiche considerate a rischio di incendio, esplosione e rilascio di sostanze tossiche. L'eventuale collegamento tra il mancato aggiornamento e le potenziali conseguenze dell'incendio su persone e ambiente potrà forse stabilirlo la procura di Avellino che ha aperto un fascicolo contro ignoti nel quale si ipotizza l'incendio doloso. Conseguenze come rassicurano vigili del fuoco e ARPAC che per fortuna sono state evitate. Il toluene di isocianato, la sostanza più pericolosa utilizzata nelle produzioni di meridionale resine, non ha lasciato traccia. I valori di diossine e furani dispersi in atmosfera non hanno fatto registrare il superamento dei limiti previsti per legge. Resta invece apertissimo il tema della sicurezza dei residenti che nella zona vivono a strettissimo contatto con le aziende del nucleo industriale. La delocalizzazione dei residenti per un verso e la riconversione green delle aziende sono percorsi lunghi, graduali e costosi. Nel frattempo dovremmo essere rassicurati e protetti quantomeno da procedure che in caso di emergenza dovrebbero scattare. Nella notte dell'incendio nessuno si è fatto vivo con i residenti né con un messaggio né tanto meno con le sirene e i megafoni previsti dal protocollo Seveso.